Chi siete? Chiedo il superiore S'apre alle cinque la chiesa Se al giubileo venite Il superiore, per carità Che carità a quest'ora Mi manda il padre Cleto Quel santo uomo Il motivo? Urgente Perché mai? Un infelice Brutta solfa Però va prondentriate Ma posso? No, scomunicato siete Che strano fia aspettare C'è il sereno Vanno un ciò E se non torno Buonanotte No, scomunicato fia aspettare Ma si mi respingesse Ma si mi respingesse Ma si mi respingesse Ma si mi respingesse Vergin ma si sti Vergin ma si sti 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 Ma si sti